Buongiorno, oggi volevo parlare ancora dell'importanza del sostegno, del sostegno quando fai un percorso personale, quando vuoi imparare ad allinearti a quello che ti rende felice, quando vuoi rallentare per iniziare a fare un lavoro personale, per veramente ascoltarti, perché veramente vuoi cambiare dentro di te, ma allo stesso tempo ti rendi conto che quel cambiamento sarà il cambiamento che porterai nel mondo, perché ogni cosa che facciamo, come dico sempre, che pensiamo, che proviamo l'espressione del nostro viso, va a influenzare le persone che sono intorno a noi. Quindi io ti invito veramente a fermarti, a rallentare e ad osservare quello che fai giornalmente, stai andando in quella direzione. Un esercizio che faccio fare alle mie formandi di yin yoga è proprio la sera di fermarti e andare a osservare la tua giornata per vedere cosa hai fatto, quali sono le azioni che hai creato. Se tu vuoi arrivare in un certo punto, vuoi arrivare a per esempio essere felice, osserva la tua giornata la sera, osserva se quello che hai fatto ti ha portato a essere un po' più vicino a quello o se sei andato in automatico e non hai fatto nessuna differenza. Perché se noi vogliamo arrivare in un punto, ma facciamo le stesse azioni, gli stessi pensieri che abbiamo sempre fatto, non potremo mai arrivare in un punto diverso. Per arrivare in un punto diverso dobbiamo fare delle azioni, dei pensieri, delle emozioni diverse, delle azioni diverse. Però dobbiamo rallentare e dobbiamo diventare più consapevoli di quello che in realtà già stiamo facendo. E quindi ti invito tutti i giorni ad andare ad osservare se le tue azioni sono allineate a dove vuoi arrivare. Osservati. Ti invito ad andarti a iscrivere al seminario che ho fatto che parla proprio di questo, di come tu in questo momento puoi attraverso degli step specifici andare a cambiare la tua vita e andare in una direzione che ti porterà a essere più felice, più gioioso o più gioiosa. Ti invito di andare a vedere perché ti bastano, è un seminario gratuito che tu puoi andarti ad ascoltare e se tu seguirai veramente quegli step, quegli step cambieranno la tua vita, non avrai bisogno di altro. Ognuno di noi è diverso, quindi sono degli step neutri che tu puoi utilizzare apportando quello che vuoi. Non c'è niente che devi fare che tu non voglia fare, però ti crea una visione, una consapevolezza che ti porterà a creare piccoli passi perché noi siamo abituati a volere tutto subito, non possiamo cambiare la nostra vita dal giorno alla notte, dobbiamo creare piccoli passi ogni giorno. In questo seminario potrai andare passo per passo a cambiare giornalmente nelle piccole cose e così piano piano andare a ritrovarti magari tra un anno, tra cinque anni, tra dieci anni in esattamente quello che sai che ti renderà felice. Quindi ti lascio il link qui sotto e spero di venire a vedere, che verrai a vedere questo seminario insieme a me. Grazie mille e ciao!